E' una vittoria importante perché arriva in un derby, arriva insomma con una grande rimonta da parte di latino. Ma sì, le vittorie fanno sempre bene, però bisogna fare i complimenti a Sole che ha fatto una stagione grandissima, ha raggiunto la salvezza come noi tre giornate in anticipo, credo che loro sono veramente contenti perché hanno fatto questa cavalcata importante. Ma a parte nostra sì, siamo contenti, è una partita che si stava giocando un po' sotto tono, 2-0 sotto, poi abbiamo avuto la reazione e abbiamo vinto. Siamo contenti perché poi i derby fanno sempre bene, ma le vittorie soprattutto fanno bene e quindi bene, bene così. Ecco, salvezza conquistata, tempo di bilanci, che stagione è stata, anche se mancano ancora due giornate alla fine della stagione? Ma la stagione credo che sia stata positiva perché abbiamo avuto un po' di problemi dall'inizio del palazzetto, abbiamo avuto il problema di Tosi, c'è stato un po' Parodi che ha avuto qualche problemino, quindi diciamo che alla fine siamo riusciti a fare un miracolo. E su questo siamo contenti perché i ragazzi e lo staff hanno fatto un ottimo lavoro, la società l'ha sopportato, sono stati dietro sempre a farli stare tranquilli perché abbiamo fatti lavorare bene e questo è il risultato. Quindi da parte nostra siamo solo contenti e da fare un grandissimo applauso ai ragazzi e allo staff perché hanno fatto un'ottima stagione.